I tempi delle domeniche degli italiani, soprattutto di quelli di provincia, avevano una volta delle cadenze ben precise. Sveglia più tardi, colazione, messa per chi crede, il pranzo e poi per moltissimi il sacro rito della partita nel primo pomeriggio. Poi è spletato quest'ultimo la tradizionale passeggiata con la famiglia o a casa per seguire tutte le trasmissioni sportive. Era il mondo dei tifosi delle squadre di Serie C, quelle non ancora contaminate dal calcio spezzatino e che avevano poche certezze e una di queste, come ripetevano gli inglesi, che ci sarà vita fino a quando le partite di calcio inizieranno tutti alla stessa ora. D'altra parte la tradizione è la tradizione. Per adeguarsi a tutto questo le tv private italiane disegnavano i loro palinsesti domenicali rispettando le esigenze dei telespettatori. La Lega Procco, si si chiama oggi, guidata da quel geniaccio del ragionier Mario Macalli, ha pensato che forse dalle tv si poteva ricavare qualcosa. E allora, da qualche anno, ecco il mercimonio di diritti più o meno esclusivi che ogni anno salivano di prezzo, ma che le tv erano costrette a pagare per offrire qualcosa di decente ai propri telespettatori. La sticella si alzava sempre più con il passare degli anni e quest'anno il grande Macalli ha avuto il colpo di genio definitivo. Mi faccio una tv che trasmetta le partite di Lega Pro Unica in diretta. Già, una bella idea, 30 partite tutte in diretta gratuitamente, tanto le tv private acquisteranno i diritti e pagheranno loro. Alziamo ancora un po' i prezzi e ci usciremo. Il pensiero sarà stato questo, ma 30 partite in diretta, come si fanno? Non sarebbe capace nemmeno Sky. Già, è un problema, ma quando la mente è sopraffina, si trova la soluzione. Le spalmiamo in quattro giorni e in orari diversi. Idea geniale. Due il venerdì, una alle 19.30 e l'altra alle 20.45. 14 il sabato, dalle 14.30 fino alle 19.30. 13 la domenica, con la prima alle 11, poi due alle 12.30 e poi 14.30, 16 e 18. E già che ci siamo, mettiamo anche il posticipo di lunedì, che non fa mai male. E i tifosi? Ma che ce ne importa, avrà pensato Macalli. Tanto hanno le partite in diretta streaming. Una genialata? No, permettetecelo di dirlo, una vera porcata, che non tiene conto delle esigenze dei tifosi, costretti a riorganizzare con le famiglie i weekend, delle tv che acquisterebbero dei diritti che non sono più tali perché chi vende è anche un acquirente privilegiato e che non paga e fa come vuole, e delle società che verrebbero a crollare gli incassi. Ma le società sono in parte complici. La Lega, d'altra parte, è composta da loro, che hanno votato coloro che la dirigono, la governano e decidono. Una domanda. E se le tv non acquistassero più i diritti, come farà Macalli a pagare le sue produzioni? Già, forse questa volta si sono fatti conti senza l'oste, perché quando si tira troppo la corda, alla fine si stucca e le genialate non diventano più tanto tali.